ammazzo pure ciao 14 secondi bella a tutti da me il gabbone il gabbone sì sono io siamo tornati con questo nuovo video perché diciamo che facendo un quadro riassuntivo della situazione l'affare cristiano ronaldo juventus sembrerebbe sempre più avviato e addirittura sembrerebbe che abbiano imboccato il rettilineo finale verso la conclusione definitiva della trattativa poco fa esce una notizia di luca modric che ieri tra l'altro ha vinto con con la croazia i calci di rigore ha battuto pure il rigore de merda cioè non fate più battere i rigori a modric perché fa solo che danno quasi o poco ci manca per carità è un campione ma a mio parere c'è altre qualità i rigori fateli dire ad altri poi può essere pure che moda dal prossimo rigore non sbaglia i prossimi 6.700 rigori però vi dico quello che ho visto ha dichiarato che secondo lui alla fine cristiano ronaldo resterà real madrid comunque luca modric è un è un giocatore che ronaldo lo conosce bene no per carità non so se hanno parlato tra di loro ma penso di sì ragazzi penso di sì perché comunque alla fine sono amici sono amici per quanto ronaldo possa sta in vacanza in grecia ma non voglio entrare nel merito e nel dettaglio dei rapporti non pensate a male di amicizia tra tutti i giocatori del real madrid ma io credo che quando ci siano questo tipo di voci tra amici non c'è silenzio cioè dovrebbe esserci dialogo ha espresso un suo parere non è che dovete prendere questo queste dichiarazioni come ronaldo resterà real madrid però io ragionandoci ho iniziato a pensare che magari la volontà quella reale di cristiano ronaldo sia quella di chiudere la carriera real madrid ma che ci siano degli impedimenti tra virgolette per chi lo vuole legge tra le righe florentino perez che non gli consentirebbero di farlo ragazzi il rapporto tra ronaldo e florentino perez se sa non è dei più idilliaci non si possono vederlo uno con l'altro questo è quello che lasciano intendere intendere al pubblico a chi a chi li guarda da fuori però e dico però ieri sono uscite nuove indiscrezioni nuovi segnali qua e là che potrebbero lasciar presagire che ronaldo potrebbe presto vestire la casacca bianconera allora innanzitutto sito de mutande de ronaldo cr7 underwear se volete le mutande con un pacco pronunciato acquistatele sul sito ufficiale di cristiano ronaldo 99 euro a mutanda alla prima scureggia si strappano e le ricomprerete senza alcun problema ecco sul sito underwear de cristiano ronaldo è comparso ronaldo dietro uno sfondo a righe non era bianco e nero in realtà era grigio e nero e vabbè e già avevano fatta era una no secondo me era grigio e nero e non credo che quello sia stato un segnale come se io mi metto dietro mi fanno la torta bianco celeste e dico sono diventato da lazio no sinceramente io so da roma non me ne può fregare meno non è quello il particolare che mi ha lasciato pensare a ronaldo alla juventus il particolare che me lo ha lasciato pensare è che sotto c'era mi pare lavora con noi affiliati con noi clicca qui ragazzi ci stava la foto dello juventus stadium sono rimasto a libido perché comunque tu curi il sito tu sei cristiano ronaldo quindi o hanno hackerato il sito ma sinceramente non ci credo anche perché non ci sono state dichiarazioni ufficiali in tal senso attualmente dovrebbe essere sparito e quello c'è da dirlo però ragazzi c'era c'è stato scritto proprio drughi extra cioè se capiva se capiva che c'estavano i striscioni se capiva che era lo juventus stadium che ronaldo abbia voluto lanciare un segnale per far capire che la juventus sarà la sua prossima destinazione fermi che ronaldo abbia voluto lanciare a florentino perez l'ultimatum per dire vedi quello che devi fare perché altrimenti me ne vado alla juve bisogna prendere in considerazione tutto bisogna ragionare a mente aperta perché secondo me anche questa potrebbe essere una soluzione fatto sta che è sparito è sparito dovrebbe essere sparito ma non so se lo hanno rimesso c'erano altri particolari ah account cinese weibo profilo un social network cinese della juventus per pochi secondi sono comparsi i numeri sette della juventus che finora mi pare sono stati sei mancava il settimo mancava proprio il settimo e se chiedeva se insomma non mi ricordo se piacevano i numeri sette come avete visto che c'entrano i numeri sette della juve poi messi là così strano strano caso proprio che mo che cr7 potrebbe approdare alla juventus potrebbe sembrare un indizio che lascia presagire che ronaldo presto potrebbe diventare proprio un giocatore della juve fatto sta che poi è stato rimosso rapidamente allora io mi chiedo se è stato messo e rimosso rapidamente perché fa una cosa del genere potrebbe anche quello essere un attacco degli hacker non lo so sinceramente non lo so che altro c'era c'era un altro indizio se non sbaglio che poteva lasciare no le mutande l'ho detto i pacchi pronunciati il profilo weibo c'era un'altra cosa troppe notizie troppe cose però ripeto tanti indizi potrebbero fornire una prova ma la prova definitiva la deve dar il giocatore perché a quanto ieri è stato detto che poi io ho anticipato sport media sette due ore che la gente mi ha detto ma dove hai preso sta notizia poi quando hanno cominciato a leggere su sky sport dice oddio scusa scusa c'hai ragione ecco allora va bene florentino peres starebbe aspettando che ronaldo facesse un'uscita ufficiale in cui dica io voglio abbandonare il real madrid per andare alla juventus non c'è cazzo che tenga magari non con queste parole perché sennò poi si riallaccia al discorso delle mutande se fa pubblicità occulta però è questo quello che trapela florentino peres vuole uscire al 100 per cento pulito da questa situazione lui vuole che i tifosi capiscano che non dipende più dal presidente perché lui ha un'immagine un'onorabilità da mantenere ecco questo è quello che dovrebbe essere realmente ma io voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti anche dopo le dichiarazioni di luca modric ce lo ripeto mi hanno fatto pensare perché troppi indizi che potrebbero far pensare che il ronaldo stia facendo del tutto per far credere a perez che alla fine andrà alla juventus per costringere magari perez a dirgli te do 50 milioni all'anno per rimanere al real madrid potrebbe essere questa la questione oppure potrebbe essere come hanno detto nei giorni scorsi tanti giornali lo ha confermato sky sport lo ha confermato sport mediaset non sarebbe una questione economica e di danaro ma sarebbe semplicemente un fatto ossia che cristiano ronaldo non si sente più come si sentiva prima real madrid quindi non non si sente quel campione tutelato così come si sentiva prima e quindi l'applauso della juventus allo juventus stadium le lusinghe e il fatto che agnelli lo ha cercato tante volte insomma gli ha provato a dire che vuoi venire alla juventus magari si sarebbe sentito più importante ecco anche per un campione questo è importantissimo è veramente importante che uno non solo continui a giocare a determinati livelli ma che si senta anche all'altezza e che gli altri abbiano un parere totalmente positivo ecco probabilmente florentino perez lo ha trascurato si sente una donna trascurata ma io voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti mi era venuta a mente un'altra cosa che dovevo dire a che ha rifiutato ronaldo 100 milioni di stipendio all'anno mi pare per 5 anni se non sbaglio dalla cina e molti diranno sì ma se a fare ragionamento che non c'è senso perché tanto dalla cina che c'è va a fare ronaldo alla cina che si sente ancora un giocatore se vuoi sentire importante vuoi vincere trofei champions league in quel caso non è una questione dei soldi e va bene però un conto è la cina e un conto magari è il voler restare al real madrid perché ricordiamocelo ronaldo più volte l'ha dichiarato lui vorrebbe chiudere la carriera con il real madrid il vaso è traboccato ci hanno pisciato troppo dentro io questo non ve lo posso dire le vere cose le sa solamente lui e se lui non fa un'uscita pubblica ovviamente non possiamo sapere quindi aspettiamo però per quello che trapella ragazzi ronaldo martedì e dico martedì dovrebbe essere presentato come il nuovo giocatore della juventus ma e dico ma prendete sempre queste notizie con le pinze let su sky sport e sport mediaset che sono fonti sicuramente più attendibili del corriere della pippa o la gazzetta dello stronz che non era per far pubblicità brutta pubblicità la gazzetta dello sport era semplicemente per di una cosa così scherzosa cioè la gazzetta dello sport io la compro quasi tutte le mattine quindi cioè uno dei miei giornali preferiti io ho fatto pure pubblicità va bene però insomma potevate travisare potete pensare che magari mi stavano antipatici assolutamente no il giornale rosa per me è uno dei migliori lasciate un bel mi piace su cui mi piace mi piace mi piace il colore che vedevo di sarò effemminato lasciate un bel mi piace su questo video arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio commentate condividete iscrivetevi al mio canale se ancora non lo avete fatto fate iscrivere le vostre nonne al mio canale perché ultimamente vedo che le nonne sono molto interessate al calcio non so forse a cristiano ronaldo quindi fatele iscrivere perché insomma mi seguono e mi fa sempre piacere detto questo profilo instagram capo man 7 seguitemi anche lì vi aggiorno vi invio le feed che youtube non manda così scoprirete sempre i miei nuovi contenuti stesso identico discorso sul mio canale telegram l'ancora meglio perché ragazzi vi mando proprio il messaggino privato ho pubblicato un nuovo video ci cliccate andate su youtube direttamente dal link e vedete i nuovi contenuti scatenatevi nei commenti voglio sapere che cosa ne pensate soprattutto del pacco di ronaldo secondo voi è vero ci mette la conchiglia dentro perché secondo me c'ha un un cosetto così ci mette la conchiglia sono sicuro perché se vede oppure ci mette un pisello finto di quelli a rotolare perché se vede cioè ma da che stiamo a parlare su ciao